Ben ritrovati amici di Weekend Dance, siamo in via Coroglio all'HB2 Festa Glamour, guardate il servizio. Festa Glamour organizzata alla grande da Elena, complimenti. Grazie, grazie. Festa è riuscita benissimo. Era una serata per festeggiare la donna, per far conoscere comunque la mia boutique che si chiama Shabby Chic, per proporre alle donne tutte le tendenze nuove dell'autunno-inverno, tutti i colori nuovi, abbiamo anticipato un po' tutti i colori nuovi della collezione. Con me hanno collaborato Officine Ottiche Group, che ha presentato stasera in esclusiva tutti gli occhiali più glamour della stagione, quelli anche un po' in edizione limitata. Con me ha collaborato a Profumo 33, una boutique esclusiva del Profumo, il mio parrucchiere di fiducia che è Valentino Parrucchiere. Ci sta anche una piccola anticipazione della primavera-estate 2018 con i costumi di Margherita Mazzei. È una serata dove ci siamo divertiti, abbiamo bevuto, mangiato, abbiamo ballato e ci siamo divertiti. Non è mancato assolutamente nulla, anche perché col Profumo, con gli occhiali, con gli abiti abbiamo composto l'outfit alla donna. Esatto, siamo contenti di avervi avuto qui con noi e vi aspetto nella mia boutique a Napoli a Colliaminei. Grazie a tutti. Nei grandi eventi c'è sempre la presenza di officine ottiche gruppa, l'icona di riferimento e riconoscimento è Sonia, sempre in splendida forma. Benvenuta. Grazie Dino, benvenuti. È un mega evento. Io lo definirei così perché c'è bellissima gente, siamo più aziende che collaborano insieme, stiamo presentando tutte le nuove collezioni. È fantastico. Poi il locale è molto bello, l'HP2 qui a Coroglio. Si intreccia la moda, il profumo, gli occhiali, tutto. Sì, accessori, moda, tutto ciò che interessa la persona, ma lo stile, il fashion, il glamour. Infatti il party si chiama Glam Party. Assolutamente più glamour di così. Sonia, ricordiamo i punti vendita di officine ottiche gruppa che è anche official sponsor del concorso Ragazza Weekend Dance. Ci segue da due anni. Dove sono i punti vendita? Il punto principale è a Santa Maria Vico in provincia di Caserta, a Caserta in piazza Vambitelli, a Napoli, a Alvomero e poi a Marcianise. Seguiteci anche su Facebook e Instagram. Prossimamente sicuramente è un nuovo punto vendita da officine ottiche gruppa perché siete bravi, professionali e indicate sempre la moda dell'occhiale che è un accessorio importante. Invitiamo sempre te che sei il numero uno. Invitiamo sempre te che sei il numero uno. Touch my body Festa Glamour con Weekend Dance questa sera all'HB2 in via Cologlio. Potevano mancare gli stylist del capello, le persone professionali, le figure professionali che rendono la donna ancora più bella. Ve li presento. Antonio. Valentino. Ecco, la vostra azienda qual è? La nostra azienda è creare un'immagine, una visione, un'emozione. Basta che le donne si emozionano e stanno bene. È importante una figura professionale come la vostra per le donne, le impreziosite ancora di più per la loro bellezza. Sì, sicuramente. Poi oggi come oggi, che voglio dire, la donna fa mille cose in una giornata. Andarsi a riposare, a rilassarsi anche dal parrucchiere, secondo me è un qualcosa che non può mancare a una donna. E il nostro compito è proprio quello comunque di dargli attenzione e a fargli capire soprattutto l'amore che noi abbiamo per la nostra professione. Dove siete ubicati? Allora, noi abbiamo la sede centrale che è a Corso Europa 38, Simone Martini e un'altra a Viale Collia Minai 38C. Noi aspettiamo le donne, siamo felici di vederle e ci emozioniamo. Non potevano non essere con noi Margherita che è una designer di costumi da mare donna. Assolutamente sì. Buonasera a tutti. È una serata degna del glamour, della moda, del divertimento. C'è un assortimento misto, c'è tutto. Anche se siamo in pieno inverno, già si pensa al costume da indossare all'estate prossima 2018, no? Assolutamente sì. Noi siamo pronti con la nostra collezione. C'è anche la linea crociera che consegniamo a dicembre, quindi il mare per noi è tutto l'anno. E poi il costume da mare è importante perché è un capo d'abbigliamento per una donna. Assolutamente sì. Al mare ci si spoglia ma ci si vuol sentire glamour a posto con tutte le cose. Quindi il costume è diventato ormai un abbigliamento vero e proprio. Buonasera! Buonasera! Sei qui questa sera per acquistare qualcosa, vero? Certo! Occhiali, officine ottiche, gruppo, sempre più belli di tutti. Che cosa hai acquistato? Ho acquistato questi occhiali che sono i più belli in assoluto di tutta la collezione e un po' di abiti, veramente belli. Anche perché questa sera c'è l'imbarazzo della scelta, la moda, costumi da mare, abbigliamento femminile, occhiali, anche parrucchieri per una pettinatura diversa. Esatto, proprio per essere perfetti in ogni occasione. Veramente una serata molto molto glamour. E anche tu ti senti molto glamour. Assolutamente sì. Con gli occhiali, officine ottiche, bellissime.